Signore e signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da un video in cui data l'estate che si avvicina dato il caldo ritorno ad indossare i miei cimeli calcistici nella fattispecie la maglietta della nazionale di calcio austriaca europei del 2016. Allora signori, torniamo in questo video a parlare dopo tanto tempo che non lo facevo più, torniamo a parlare di aerei, di aeroplani, di cose che volano, di cose che fanno rumore e che vanno veloce. La velocità è stata sempre una delle ossessioni di tutti, la velocità degli aerei è sempre stata una delle ossessioni degli aerei da caccia e dei prototipi, è sempre stata se vogliamo una delle ossessioni dei progettisti aeronautici di tutto il mondo, un'ossessione soprattutto per una certa scuola di pensiero dei progettisti sovietsi. Alcuni progettisti sovietici si erano fissati con la velocità a tutti i costi. L'esempio più clamoroso lo conoscete fin troppo bene, il mio amatissimo, dilettissimo, splendidissimo, bastardissimo e cattivissimo e soprattutto stronzissimo MiG-3, l'aeroplano che praticamente era una condanna a morte non per i tedeschi ma per quelli che lo usavano perché era tanto bello quanto inguidabile. Dicevo, questa ossessione per la ricerca a tutti i costi della velocità, della maggior velocità possibile, trovò un seguace, insomma questa scuola di pensiero della maggior velocità possibile degli aerei, trovò un seguace in un semi sconosciuto ingegnere sovietico in un semi sconosciuto ingegnere russo che si chiamava Mataoz Ruvimovic Bisnovat, a volte è scritto in Biesnovat, ci sono due versioni del cognome, Bisnovat o Biesnovat, non si sa di preciso quale sia, se qualcuno di voi lo sa, lo sa per cortesia ditemelo così, ci togliamo questo dubbio. Herbert Leonard in questo libro, enciclopedia dei caccia sovietici 39-51, ci parla della genesi di questo peculiare aeroplano, di questo strano aeroplano, strano perché è strano? Perché è strano sì, ed è strano forte, signori tenetevi forte, la prima versione del prototipo sperimentale per record e studi sull'alta velocità del Bisnovat SK-1. Eccolo qui, questo, questo che vedete, questo che vedete è il Bisnovat SK-1. Il ridottissimo radiatore ventrale 17 cm quadrati di superficie, un radiatore di ridottissima apertura che sfruttava un ingegnoso sistema di compressione dell'aria per evitare problemi di surriscaldamento durante il volo. Praticamente il flusso dell'aria veniva incrementato tramite un ingegnoso sistema di condotti. Questa che vedete qua sotto, questa che vedete qua, 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 sotto il mio litone, questa che vedete, è la presa del carburatore e questo qui è l'abitacolo. Sì, l'abitacolo è questo. A visibilità totalmente nulla verso l'avanti e tutto era sacrificato alla velocità. Notate la finezza aerodinamica estrema del progetto che era, come dire, tutto, ripeto, era finalizzato all'aerodinamica. Tutto. Questa è la pianta alare, questo sarebbe lo SK-2, la seconda versione con un abitacolo, tra virgolette, più normale. Questo è la SK-2. Notate l'ossessione di Bisnovat per la finitura aerodinamica e soprattutto per l'ala a basso allungamento e bassa superficie che era un mantra, un credo assoluto per questo progettista. Cioè, praticamente, secondo questo progettista, un aereo per essere il più veloce possibile doveva avere meno aereo possibile intorno al motore, perché più piccolo è, più filante è e più va veloce, e aveva, insomma, come dire, questa idea di sacrificare tutto alla ricerca della velocità e della pulizia aerodinamica. Cioè, qualcuno di voi si chiederà, ma come cavolo faceva il pilota? Semplice, in volo il pilota era assolutamente cieco verso l'avanti e guidava soltanto tramite il volo strumentale. In decollo e in atterraggio si alzava, qua si vede appena appena, un piccolo parabrezza, si alzava un piccolo parabrezza, il pilota alzava il sedile, metteva fuori la testa protetta da questo piccolo parabrezza per atterrare e decollare. Cioè, vi lascio immaginare. C'è un'idea talmente tanto folle, cioè talmente tanto geniale, da essere folle o idiota. Ma in realtà, a quanto sembra, il Bisnovat non volava nemmeno male, a quanto sembra. Praticamente, ripeto, si trattava di un monoplano, monoposto, un prototipo, se vogliamo, da record, un prototipo sperimentale proprio per studiare queste soluzioni aerodinamiche estreme. Il pilota si chiamava Cijanov e, ripeto, ripeto, ve lo ripeto, signori, ve lo ripeto, per decollare e atterrare con questo trappolotto qua, doveva aprire un piccolo parabrezza retrattile qua, alzare il sedile, tirare fuori la testa per avere un minimo di visibilità verso l'avanti in decollo e in atterraggio. Il mio cappellino dice, finalmente ho trovato qualcuno più scemo di me. Ma in realtà Bisnovat non era scemo, non era stupido, aveva una concezione estrema dell'aereo che aveva in mente, ma in realtà si trattava di un aeroplano estremamente moderno. Oltre alla finitura, oltre alla estrema ricerca della pulizia aerodinamica, si era focalizzato sin da subito, non sulla costruzione mista che all'epoca in Unione Sovietica andava per la maggiore, bensì sulla costruzione interamente metallica, struttura metallica con rivestimento lavorante, che nel 1939, quando venne progettato, era una novità quasi assoluta nel mondo e una roba da fantascienza in Unione Sovietica. Però, ripeto, grazie alle eccellenti capacità dello Zagi, del famoso istituto centrale di aerodinamica di Mosca, le idee di Bisnovat trovarono una buona applicazione. Come volava quest'affare? Secondo i rapporti del collaudatore Cianov, sorprendentemente volava bene e volava anche piuttosto veloce. La prima versione, il primo volo fu fatto con il carrello fisso, perché non c'era, cioè fu fatto con gli sci addirittura il primo volo, e furono fatti anche alcuni voli con il carrello fisso. Nonostante il carrello fisso, questo attrezzo, questo attrezzo, nonostante il carrello fisso, raggiunse una velocità di 577 chilometri orari, per dire. Logicamente, con una linea così estrema, era logico che si raggiungessero velocità elevati, motore potente, cellula ridotta, apertura all'area ancora più ridotta, pilota sacrificato in questa specie di bara, almeno va veloce. L'idea non era neanche tanto, insomma, l'idea sembrava campata in aria, ma in realtà era molto promettente. Il ministero, la Voyenovos Luzgensili, diede a Bilsnovat l'ordine di studiare qualche cosa di più umano, di più adatto, insomma, di più adatto ai piloti da caccia della VVS e ne venne fuori un altro progetto. L'OSK2, che era praticamente un OSK1, eccolo qua, era un OSK1, finalmente con un abitacolo che garantiva visibilità, eccolo qui. Questo, notate la ridottissima apertura all'area, la ridottissima superficie alare, perché nulla doveva disturbare la pulizia aerodinamica del mezzo. Viznovat era indubbiamente un estremista, era una sorta di talebano per queste cose, però ripeto, l'OSK1 volava veloce e abbastanza bene, l'OSK2 sorprese Cianov perché disse che aveva ottime, aveva delle buone caratteristiche di volo, però purtroppo non tutti erano piloti bravi, abili e capaci come Ciano. Non venne mai installato un armamento sull'OSK2, erano previste o due mitragliatrici pesanti, due mitragliatrici pesanti o due cannoni e una mitragliatrice, ma non venne mai installato alcun armamento. Perché praticamente, tenete presente una cosa, nel novembre 1940 l'OSK2, cioè ripeto, la seconda configurazione, questa che vedete nella foto, la seconda configurazione che vedete nella foto, è questa, questa, in questa configurazione lo SK2 filò a 660 chilometri orari. L'aereo, il prototipo per un futuro uso militare più veloce del mondo, più veloce financo del mio amatissimo MiG-3, per dire. Però c'era un problema, il carico alare. Il carico alare era decisamente troppo elevato, dice per forza con un'ala così piccola come fa ad avere un carico alare ridotto. E fu questo che decretò la, tra virgolette, condanna a morte dello SK2 e dei progetti di Binsnovat. La VVS rimase molto perplessa proprio per l'eccessivo carico alare. Un conto è quando fili a tutto gas dritto, livellato o in combattimento, un conto è quando devi atterrare o decollare. E la media dei piloti sovietici del periodo non era qualitativamente molto addestrata. Cioè, insomma, la VVS aveva una gran massa di piloti poco addestrati, già nel 1939. Piloti che si sarebbero trovati in estrema difficoltà con un aeroplano dalle caratteristiche così peculiari e così, diciamo, estreme, sì, vabbè, si sarebbero trovati in estrema difficoltà con un aereo così estremo. Che vi posso dire? Nel dicembre 1940 lo studio di Binsnovat venne smantellato, venne chiuso, il progetto finì lì, il prototipo venne distrutto al momento dello sgombero di tutte le industrie e di tutti gli uffici di progettazione a Mosca e rimangono soltanto un paio di fotografie dell'OSK1, un paio di fotografie dell'OSK2, alcuni disegni e nient'altro. Ripeto, l'OSK1 fu i due prototipi di Binsnovat erano estremamente interessanti, però insomma, se vogliamo, troppo estremi, troppo focalizzati ad una sola cosa, la velocità. E questo, diciamo, sicuramente avrebbe dato, in un impiego operativo avrebbe dato sicuramente dei grossi problemi, perché ripeto, non tutti i piloti sono piloti collaudatori con migliaia e migliaia di ore di volo e non tutti i piloti sono in grado di tenere a bada un aereo tanto bizzarro, cioè tanto geniale ma altrettanto bizzarro e bislacco. Alcune soluzioni vennero riprese da altri progettisti, alcune soluzioni costruttive furono riprese quando altri progettisti passarono anche loro dalla struttura mista, dal cosiddetto SCHVON, ovvero sia il legno laccato, il compensato laccato che era il materiale principale in cui erano costruiti gli aeroplani sovietici. dell'epoca. I studi di Bisnovat, bene o male, servirono a qualcosa, anche se il suo aereo non giunse mai ad un impiego operativo, anche perché, diciamoci la verità, molto probabilmente avrebbe ammazzato più piloti sovietici dei tedeschi che incontrava, ma insomma non è certo una novità. I tedeschi, sì tedeschi, buonasera, scusate, i russi non hanno mai avuto una soverchia attenzione per il comfort degli equipaggi dei loro mezzi, sia aerei che navi che carri armati. Per loro l'importante, per i russi, l'importante era avere aerei, avere navi, avere carri armati, ma le comodità dell'equipaggio, chi se ne frega, ce li cacciamo dentro, è morta lì. E l'SK-1, il Bisnovat-SK-1, ne è un esempio clamoroso e non è che anche lo SK-2, nonostante l'abitacolo, tra virgolette, normale, fosse molto meglio in quanto ad abitabilità, però almeno vedevi davanti, ecco. Insomma signori, la storia del Bisnovat-SK-1 barra SK-2 è più o meno tutta qua. Un prototipo interessante, un progettista geniale ma troppo estremo ed estremista per arrivare ad una produzione di massa, un progetto interessante ma anche un progetto che aveva degli enormi limiti. Per quanto veloce tu un aereo non è che ci puoi andare solo dritto, ci devi anche manovrare e soprattutto devi far sì che sia pilotabile da tutti e non solo da un solo collaudatore, dalle capacità eccezionali e dall'esperienza impareggiata. Tutto qua. Quindi adesso cari signori tocca a voi, torneremo fra un po' a parlare di questo meraviglioso libro e di tante piccole chicche semi sconosciute e quindi ora cari signori tocca a voi, ripeto, qua sotto commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate e come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao!